Un momento davvero insolito, ci troviamo in località Luogo Vivo, siamo nella provincia di Taranto, è un po' come dire lo spartiacque per così dire tra i comuni di Leporano e di Pulsano. Beh, oramai si avvicina l'estate, siamo praticamente in estate e i nostri litorali vanno ovviamente tirati a lucido, motivo per il quale questa mattina c'è una bellissima iniziativa di bonifica, di ripulitura appunto del litorale e della zona, un'iniziativa che vede impegnati alcuni enti locali, rappresentanti dell'amministrazione comunale di Leporano, rappresentanti dell'amministrazione comunale di Pulsano e volontari in rappresentanza dell'associazionismo della società civile. E' dunque una iniziativa che la dice lunga sull'attaccamento che c'è appunto nei confronti del nostro territorio ed è bello vedere che ci sono degli amministratori che come si suol dire si rimboccano le maniche, le maniche, si tra virgolette sporcano le mani e cercano insieme alla collettività, alla cittadinanza di rendere migliore quello che poi è il nostro territorio, è il nostro habitat. E ora intervistiamo alcuni amministratori a partire da Alessandra D'Alfonso che è appunto l'assessore del comune di Pulsano delegata alla cultura e al turismo. Beh, una iniziativa in cui la politica, l'amministrazione comunale si fa sentire come dire più vicina ai cittadini. Sì, le amministrazioni comunali di Pulsano e Leporano questa mattina si sono unite insieme a tanti volontari e associazioni proprio per lanciare insieme un messaggio importante, quello di sensibilizzare tutti quanti, siamo anche particolarmente contenti della presenza di tanti piccoli, di tanti bambini che insieme a noi stanno portando avanti questa iniziativa, questa giornata ecologica appunto volta a valorizzare il nostro territorio, il nostro litorale e il messaggio che vogliamo lanciare è proprio questo, avere cura dell'ambiente che ci circonda perché è sicuramente importante preservarlo in modo da poterlo consegnare così alle nuove generazioni. E dall'amministrazione di Pulsano all'amministrazione di Leporano abbiamo, o al mio fianco, il vice sindaco Yolanda Lotta in tenuta di combattimento per così dire. Beh, una bella iniziativa, ci si sente il territorio sempre, come dire, maggiormente proprio. Sì, abbiamo voluto considerare proprio questa opportunità insieme a Leporano e Pulsano in una giornata di inizio estate, ci siamo riuniti, abbiamo voluto condividere questa opportunità di unirci tutti insieme e di formare e portare avanti questa giornata ecologica. Gli assessori, le donne, assessore e consiglieri di Pulsano hanno accettato diciamo di buon grado questa proposta e noi siamo qui con tutte le associazioni del territorio, l'associazione Vivi la Batteria Cattaneo, l'associazione Carabiniere di Pulsano, l'associazione Futura Servizi e tutte le associazioni del territorio e non solo, ma anche volontari. Abbiamo i volontari di Leporano perché noi sui network abbiamo postato questo evento e veramente siamo rimasti sbalorditi per quanta gente è attaccata al proprio territorio. Noi ce la stiamo mettendo tutta perché vogliamo che sia Leporano che Pulsano siano il fiore all'occhiello della provincia ionica. Vogliamo la vostra collaborazione, adesso noi abbiamo iniziato, vogliamo... E l'appello ai cittadini a comportarsi civilmente. A comportarsi civilmente perché abbiamo trovato di tutto, di tutto e adesso le riprese diciamo che faranno... Dimostreranno, illumineranno quanto stiamo... ...quanto ci abbiamo. Grazie a tutti e speriamo che si continui ad andare avanti. E ora ascoltiamo il mondo dell'associazionismo a partire da Gisella Menna che è la vicepresidente dell'associazione Futura Servizi. Un gran lavoro, tanta fatica, tanto sudore ma tanta gioia, la gioia di sentirsi utili per il proprio territorio. Sì, per pulire le spiagge, per stare puliti i turisti e tutti noi pure. Quindi vi sentite soddisfatti? Sì, molto. A che ora avete iniziato i lavori? Dalle otto, otto e mezza. Quindi se ne andranno due, tre ore buone... Beh, quindi anche, diciamolo, un appello come dicevamo, come ci sentivamo prima con l'assessore Lotta, affinché i cittadini si comportino come si deve. Non distruggano quello che questa mattina si sta costruendo. Entendo, sì, infatti. Perché vogliamo che deve stare pulito pure per, non so... Per noi stessi. Sì, sì, sì. Ed ora, dopo aver ascoltato una rappresentante del mondo dell'associazionismo, facciamo un po' una carrellata, quasi uno spot promozionale, affinché i cittadini capiscano quanto le amministrazioni comunali ci tengano alla tutela del territorio, alla salvaguardia, alla pulizia e quindi ora una carrellata di amministratori pubblici. Beh, facciamo come a scuola, presentatevi e poi diteci qualcosa. Lei è? Sono Gabriele Alanza, consigliere comunale del Comune di Pulsano e sono delegato al Contenzioso. Beh, le esperienze di questa mattina? È una bellissima esperienza, sono veramente soddisfatta di questa iniziativa, abbiamo accolto con favore quello che ci hanno proposto il Comune di Leporano e siamo qui uniti tutti quanti per un intervento ecologico qui al Logovivo. Dalle carte del Contenzioso alla sporcizia da togliere. Beh, è bello essere, io dico sempre, bisogna essere sempre ingegneri ed operai. Eh beh, sicuramente non è una cosa elodevole, insomma, da parte di tutti questa iniziativa. Prego. Consigliere Tagliente, delegato al Patrimonio. Eh, io non posso che essere felice per questa iniziativa perché proprio il patrimonio è ciò che dobbiamo preservare, sia per noi che per i nostri figli. Del Comune di Pulsano. Pulsano, sì, sono stata veramente contenta quando insieme con l'amministrazione di Leporano abbiamo insieme voluto questa iniziativa, che deve essere un'iniziativa per stimolare un po' il cittadino, e quindi il turista non lasciare sporco perché noi facciamo il massimo, visto anche tutto ciò che c'è intorno. Facciamo il massimo, però abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti. Infatti io stamattina quando siamo arrivati, ci siamo avviati in macchina e vedevo, come sempre, questo panorama meraviglioso, mozzafiato. E io dico, ma veramente, noi abbiamo a Taranto l'Ilva, è quello un discorso a parte, ma noi potremmo vivere di alto, sfruttando il nostro territorio. Cioè abbiamo delle potenzialità che altre realtà, penso anche alla tanto conclamata Romagna, no? Rimini, Riccione, lì c'è la mucillaggine, parliamoci chiaro, qui abbiamo il ben di Dio. Ma c'è a dire anche un'altra cosa, che nel nord ad esempio riescono ad apprezzare le piccolissime cose e farne un valore all'ennesima potenza. Noi qui abbiamo tutto e quindi insieme dobbiamo valorizzarlo, ma soprattutto preservarlo, perché questo è il nostro futuro, è questo. Marica Mandorino, consigliere comunale di Pulsano, delegata allo sport. Anche io oggi sono voluta intervenire in questa iniziativa lodevole appunto che ci ha proposto l'amministrazione comunale di Leporano, un'iniziativa che vuole dare un input a inizio estate, così che poi tutta l'estate possa proseguire nel migliore dei modi dal punto di vista ecologico, perché spesso avviene appunto che c'è molta inciviltà da parte delle famiglie, dei ragazzi, quindi diciamo che metterci in gioco prima di tutto noi in prima persona vuole essere un esempio, quindi vuole rappresentare un passaggio simbolico in modo da stimolare poi tutti a seguire il nostro esempio. Sicuramente noi abbiamo delle potenzialità davvero grandi sul nostro territorio e dobbiamo cercare di sfruttarle al meglio per poter vivere in futuro di turismo, perché il nostro futuro deve essere proprio quello, il turismo. E strappiamo la voce, il pensiero di un giovane consigliere di Leporano, era timido ma noi così abbiamo voluto insistere. Allora, Gianmarco Fanelli, consigliere comunale delegato allo sport del Comune di Leporano, e è un onore per me questa mattina essere qui insieme a tutti i colleghi, consiglieri, assessori e tutte queste associazioni che come sempre hanno voluto collaborare con noi per rendere ancora più fantastico il nostro territorio, un territorio chiaramente stupendo. Noi dobbiamo vivere di turismo e dobbiamo essere i primi a offrire ai turisti che vengono un territorio splendido, fantastico. E che dire, hanno già detto tutte le colleghe, ha già detto il vice sindaco, ringrazio ancora tutte le associazioni che ci sono venute ad aiutare. Che dire, continuiamo a tenere, la cosa principale è tenere pulito il nostro territorio. Ha visto com'è bravo? Aveva, si vergognava un po', era timido e invece ha bucato il video. E ora è il momento dell'associazione Vivi la batteria Cattane, una associazione che insieme alle altre si sta dando molto ma molto da fare. Una battuta per uno e ovviamente presentatevi. Sì, sono Danilo II, sono il presidente dell'associazione e insieme a tutto il resto dell'associazione siamo qui presenti e ringraziamo l'amministrazione dell'invito rivolto. Noi siamo subito intervenuti quando ci sono questi tipi di eventi, di iniziative, ci impegniamo tutti insieme per far sì di raggiungere un obiettivo massimo e rendere a tutta la cittadinanza e far vedere il bello che abbiamo sul nostro litorale. e niente, sono molto contento di questa bellissima giornata. Sentiamo qualche donna, dai lavori di casa a quelli per la comunità. Una battuta per uno. Siamo contenti di partecipare a questa giornata per i nostri bambini, rendere le spiagge pulite. Speriamo che tutti con la nostra collaborazione riusciamo a mantenerle sempre così. Anche il piccolo qui a lavorare, no? È venuto come... Lavori, non guardi. No, è lavorato. E niente, siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto, speriamo di essere ad esempio ad altre persone e di cercare di non sporcare soprattutto e di non inquinare l'ambiente. Sì, altrettanto siamo contenti e felici di partecipare a questa giornata per il bene del nostro territorio. E allora, con questi occhiali e con questo pizzetto sembra un aspetto duro, ma c'è un grande cuore verso il territorio, il nostro territorio, quello di a cavallo tra Pulsano e Leporano. Io vorrei dire solo una cosa. Noi facciamo parte della batteria Gattane, dove teniamo il territorio abbastanza... e vorrei sensibilizzare tutti i cittadini a collaborare con le associazioni e non. perché questo è un territorio nostro e lo vogliamo tenere pulito e garbato. Niente, sono contento di questa giornata e aiutare un po' tutta la comunità, anche se voglio dire siamo sempre noi a sporcare. Però mantenere le spiagge pulite, il territorio pulito è una grandissima cosa. E ora l'Associazione Nazionale Carabinieri, con tanto di pettorina, quando si è carabinieri nell'animo, lo si è sempre. Siamo con? Siamo con Antonio Simone, rappresentante della NCD Pulsano. E quindi noi interveniamo in tutti quegli eventi dove c'è bisogno di noi per garantire la legalità e la sicurezza di tutti i componenti. Infatti siamo muniti di defibrillatori e tutti qualificati come primi soccorritori PLSD in attesa dei soccorsi. E quindi noi siamo presenti su tutto il territorio nazionale.